musica dove devi andare? a casa setta qua e che vai a fare? a casa setta qua ma che ci tiene la sotto? capravole vite, girasse fighe ma la dama stai sempre scioccata che? mi arrangi ancora carta a dama ma solo che non fuori buoni ah questa vuoi fabbrica a palla bello bello ma bello ma l'avete conosciuto? Gino Grossi tutti ieri noi salutiamo quando camminavamo a pire ma come vuoi salutare? facciamo una fotografia facciamo una fotografia così quando non ci si chiudono fra cent'anni fra cent'anni come vi chiamate voi? ma io c'ho Grossi e come a te? come a te? ah cos'è non posso parlare non capisco lei come si chiamava? come a te? stai sotto? stai sotto stai sotto stai sotto ma no non c'ho preoccupato ma non ci si sono cosa mi piace ah mi ti trebbe l'hai messa a posto ehm vengono l'ambiente trebbe e dopo che vengono l'ambiente trebbe un uoio dove hai trovato? qua sopra, sopra qua da lui, sopra la sorgente ma ce ne sono parecchie o? no, se non sai nemmeno le trovo come si chiama? prugnolo in italiano, mussarura in dialetto come vanno cucinate qua? perché qua vanno cucinate prima una sbollentata, poi prezzemolo, aglio e olio fritte e poi amalgamate con la pasta chi ci avete messo? già ci avete messo? si è un pomeriggio, un pomeriggio, un pomeriggio, un pomeriggio, un pomeriggio beh, è un salato come ti chiamate oggi? Giulia Giulia di? io sono un pomeriggio, un pomeriggio ah? un pomeriggio, un pomeriggio ah, vai giù pobrezza ora parma parma? parma parma o con noi come ha detto di chius chi è che hai? oh, bucuta oh, bucuta oh, bucuta oh, i c come fa? guarda, guarda non ho conosciuto ha detto? Si si ...ciatevi, ciatevi ...ciatevi ... ... ... ... ... ... ... come si ha bisogno di rucca? lo vengono estendendo e guardano il territorio è come se può buonissimo no